La verità è che anche se ti senti molto appesantito, il 27 mattina ti svegli e non vedi l'ora di entrare nel bagno. Entri nel bagno, ti guardi ovviamente allo specchio, la pancia è gonfissima. E allora cosa fai? Andiamo a vedere i nostri tanni. Ivolgi lo sguardo verso il basso e trovi la bilancia. Sali sulla bilancia. La mettiamo in funzione. E scopri che il peso non ci siamo proprio. Ti senti appesantito, la pancia è gonfia e hai preso tanti, tanti, tanti chili in più. Non te l'aspettavi. Non appatterti, ci sono buone notizie. Tutto quello che hai preso in due giorni puoi toglierlo in due giorni. Quindi non ti trascurare, non lasciarsi alimentare questi chili in più, perché più tempo passerà e più sarà difficile eliminarli. E allora ti invito a un vero cambiamento. Qualcosa che puoi fare adesso, in questo istante. Clicca qui sul link www.danilodemadi.it per iscriverti al corso di depurazione metabolica. Due giorni intensi di teorie, pratiche, ma soprattutto pratiche sulla depurazione. E quando ci saranno? Beh, dopo la Befana. Ci vediamo il 9 e il 10 gennaio. Ti aspetto al corso. Ciao! Ciao!